Musica Ben trovati all'appuntamento con le nostre breaking news. Il delitto di Clodiana è stato trovato, il corpo di Alfred Vefa si è suicidato. L'ex marito di Clodiana, la donna uccisa giovedì scorso a Castelfiorentino ed è stato ritrovato senza vita alle prime ore dell'alba. L'attore premio Oscar Geoffrey Rush tra i banchi della fiera antiquaria di ottobre che fa il pieno di operatori nonostante la concomitanza con la fiera di Parma. Pugno di ferro dell'assessore Simone Chierici contro i banchi che vendono cianfrusaglie e quindi a loro vengono inviati immediatamente i vigili urbani. Si apre il 3 ottobre prossimo a San Giovanni Valdarno al Cinema Teatro Masaccio la 41esima edizione del Valdarno Film Festival, un programma ricco di eventi e di proiezioni che vedrà la sua serata Clu sabato 7 ottobre con la consegna del premio Marzocco alla carriera al regista Pupia Vati. È tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.